Carlo sei un treno non credevo non credevo non credevo non credevo poi mi ha colpito ieri per esempio qui a piedi mi hanno portato la cena fuori è bello ma non è giusto il ritmo perché c'è una chassina tutta chiusa con la forza della non credevo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.